Allora, brevemente, questo emendamento che migliora l'emendamento numero 5 che è stato ritirato prevede due cose. All'articolo 11, la vendita degli oggetti che raffigurano immagini contrarie alla pubblica decenza e al decoro, come richiesto da alcune associazioni cittadini e appunto implementato in questo emendamento. L'articolo 14,1 introduce tra i divieti la vendita per un periodo di anni 3 affardata dall'entrata in vigore del presente regamento dell'apertura di nuovi esercizi destinati alla vendita di souvenir. Quindi, come dicevamo essenzialmente, blocchiamo i souvenir.